Come è stato un saluto a tutti ben ritrovati, una buona giornata anche qui, mi invito come sempre a commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi mi raccomando, siamo al 10 settembre quindi siamo a una settimana esatta dall'inizio della nostra Champions League in questa nuova formula che prevede più partite, una sorta di campionato appunto e una formula che sicuramente è interessante ma soprattutto tra una settimana ci sarà una partita che è quella contro il Liverpool in casa, ebbene guardate in questo momento 9 e mezzo circa la situazione dei biglietti vi faccio vedere subito che succede, eccola qui, biglietti invenduti guardate in quanti settori ci sono i biglietti invenduti, abbiamo fatto questo aggiornamento qualche giorno fa a una settimana, è ancora una situazione incredibile il che non significa che sono tutti i posti liberi quelli che vedete colorati, ma anche in quei settori ci sono diversi posti liberi, sì ed è a una settimana una situazione terribilmente anomala che fa riflettere vediamo poi se riescono a vendere tutti i biglietti oppure no, c'è una settimana che non è poco ma in questi casi fino all'anno scorso aprivano la vendita dopo un giorno, due giorni, tre giorni massimo si chiudeva il tutto qui siamo invece a già una settimana con tanti spazi ancora liberi il tempo per arrivare a sold out c'è se non si arriva a sold out secondo me è una notizia importante intanto l'andamento lo è già ma già così insomma si può prevedere che magari qualche biglietto rimane invenduto, non c'è sold out ed è un messaggio poi qualcuno dice a Itzy a non comprare i biglietti no, racconto, racconto sorpreso perché è un fatto inedito rispetto agli ultimi anni del Milan in cui c'era la corsa al biglietto ma ha ragione per una partita come Milan-Liverpool i prezzi poi, va detto, sono altissimi e questo è sicuramente un altro fattore che incide oltre alla gestione l'inizio brutto del Milan ma anche la gestione quello che va in vacanza e gli altri che non fanno alcuni in black è quello, non è soltanto aver speso magari non quanto si desiderava non è solo il mercato per me il mercato è un problema secondario è la gestione è una settimana, avete visto quanti spazi ancora che hanno possibilità di vendita e al momento sono lì ditemi che ne pensate commentate, lasciate un like iscrivetevi, sbilanciatevi il sold out lo faremo oppure no? non lo so non lo so